un aggiornamento di percorso circa 15 giorni fa è successa una cosa incredibile che non ho raccontato perché dovevo integrarla diciamo così che lascia intendere che siamo a un passo da qualcosa che noi non immaginiamo nemmeno è successo che ho incontrato di persona uno diciamo così degli extraterrestri fotografati durante le vicende del caso amicizia quindi dei v56 l'essere terrestre che ho incontrato si chiama kenio quindi se andate a cercare su internet vedete la foto di kenio kenio è stato fotografato mi sembra da breccia o da samaciccia non mi ricordo gaspere dell'amo me l'ha raccontato quando gaspere e mirella diciamo gli ultimi superstiti del caso amicizia sono usciti dal caso amicizia gli altri due breccia e samaciccia hanno continuato ad avere contatti con le basi diciamo degli v56 e hanno fotografato in uno di questi incontri kenio quindi ho incontrato kenio l'inizio di un contatto vero e proprio quello che loro definiscono proprio loro parole è iniziato il contatto parallelamente gli eventi stanno andando ad una velocità impressionante sempre più persone fotografano oggetti non identificati diciamo li chiamiamo così perché è una definizione comune che tutti possono comprendere e quindi il momento richiede una grande capacità di osservazione di come gli eventi si stanno velocizzando e ci stanno portando sulla buona strada impegnarsi in questo significa cercare di fare quello che si può per dare energia a questi nuovi intenti di generare una nuova società fondata su valori etici e quindi ognuno di noi può fare obiettivamente quello che è giusto fare ieri sono andata alla raccolta firme del nuovo partito che sarà cugnano sta cercando di fondare sarà è una persona straordinaria è l'unica che non ha abbassato la schiena l'unica che non ha ceduto ai compromessi di quel covo di ladroni del parlamento l'unica che ha pagato sulla sua pelle realmente tutto ciò che ovviamente ha affermato che andava contro la narrativa e lei con tutta la sua forza sta cercando di creare i presupposti per una nuova società ci proviamo il sistema sta crollando quindi ci sono delle falle e ieri in questo posto dove si va per la raccolta firme ce ne sono molti in italia se vi informate potete raggiungere quello più vicino alla vostra residenza ieri dicevo c'era il mondo il mondo e in tutti i punti di raccolta di firme per questo partito che si chiama vita sono pieni full quindi la gente si sta svegliando sta cominciando ad avere un minimo di senso critico sta cercando di dare possibilità obiettivamente se a seguire una persona che comunque sempre stata coerente non cade nel tranello di pensare sì magari però lei è collusa come tutti gli altri perché questo è una scusa un alibi delle persone che non intendono prendere una posizione e diventano disfattiste quindi il disfattismo è la non capacità di prendere posizione e di creare i presupposti perché questo possa creare qualcosa di bello dire ma no è tutto schifoso ci esenta dal prendere una posizione quindi quello che è richiesto in questo momento è di prendere una posizione lo diciamo per l'ultima volta perché chi c'è c'è chi non c'è non c'è il filtro è intasato ormai da tutti quelli che si sono fermati quelli che sono passati che sono andati oltre sono quelli che credono in un futuro migliore credono di poter partecipare alla creazione di questo futuro migliore sono capaci di imporre a se stessi pensieri di benevolenza e non sempre di maldicenza di diffidenza e fanno qualcosa per sperare di poter creare qualcosa di migliore di quello che sta andando via grazie a dio quindi tutto quello che abbiamo passato in questi due ultimi anni visto a posteriori come tutte le cose è stato il mezzo per decretare la fine di questo sistema perché la verità sta venendo a galla la sensazione è che ci siano ci sia un mare di cacca così come è perché prima era nascosta adesso sta venendo a galla quindi tutto sembra perduto in realtà è la fine di questo percorso tridimensionale puramente tridimensionale l'inizio di qualcosa che contiene anche aspetti diciamo così etico spirituali che non possono non far parte di questo nuovo percorso quindi al incontro questo avviene per diverse concause quindi avviene per il fatto che l'universo partecipa di questo cambiamento e di conseguenza ci sono frequenze destabilizzanti molto forti che cambiano la realtà la frequenza crea la forma cambiano la realtà perché vibrando ad una frequenza differente ad una velocità differente tutto cambia ogni cosa alla sua frequenza quindi alla materia che richiedeva richiedeva una frequenza bassa ovviamente per permettere l'aggregarsi degli atomi si sta sostituendo una frequenza più veloce quindi la materia assume contorni diversi assume contorni più leggeri nel senso l'aggregazione degli atomi è un po meno come dire forte di prima no quindi il corpo fisico si alleggerisce questo porta cambiamenti a tutti i livelli ovviamente quindi la percezione di cose che prima non erano percettibili il contatto con questi fratelli che divene reale fisico cioè scesi dall'astronave quindi vuol dire che la possibilità lo cioè diciamo così il tempo da questa possibilità e quindi se loro sono scesi dall'astronave si sono presentati kenio si è presentato significa che siamo ad un punto straordinario il contatto è iniziato questa è la frase che loro dicono il contatto è iniziato quindi a questa affermazione seguiranno infinite infiniti fatti no che testimonieranno questa affermazione già si vedono se voi andate in internet ci sono infiniti casi in cui la gente vede fotografa oggetti e io ricevo almeno tre persone al giorno messaggi che mi chiedono o mi mandano le foto o mi chiedono che cosa poteva essere eccetera eccetera quindi tutto sta avvenendo il disegno si sta compiendo quello che io sto aspettando adesso è di incontrarli perché questa è la loro volontà aspetto perché mi hanno detto che devo come dire elaborare questa cosa quindi ammortizzarla hanno usato questo termine quindi aspetto fiduciosa però vi ho voluto rendere partecipi di questo passaggio che è molto importante perché può darvi speranza può darvi energia per riuscire a capire che siamo costantemente monitorati e seguiti e se lo fanno non lo fanno tanto per fare lo fanno perché c'è una ragione questa ragione è il cambio di stato questo unione tra i mondi che ha reso possibile il manifestarsi fisicamente di questa realtà che prima si presentava sotto forma di ologramma e quindi l'unione tra i mondi sta avvenendo il mondo spirituale si sta sovrapponendo al mondo materiale quindi la quinta dimensione si sta sovrapponendo alla quarta e alla terza e di conseguenza noi siamo in mezzo siamo in mezzo né carne né pesce però adesso comincia il contatto cosa vuol dire ci sono le condizioni perché questo possa avvenire quindi scendono dall'astronave quindi si fanno vedere in modo esponenziale perché la gente deve diventare cosciente di questo perché questo aiuterà l'umanità a fare il passo non consideriamo in questo discorso e lo dico a prescindere perché so che alcune persone non tante ma esistono quelle persone che tendono a vedere il buio anche dove c'è luce manifesta non hanno niente a che fare con gli alieni che rubano l'anima questo ci tendo a sottolinearlo perché usciamo da questo da questa gabbia che ci auto infliggiamo pensando sempre gli aspetti più materiali più biechi più meschini più paurosi no questo si identifica con la realtà terrestre con la mancanza di etica di luce di speranza di consapevolezza che siamo creatori della nostra realtà quindi lasciamo indietro questo tipo di interpretazione perché non c'è più tempo per chi vuoi far parte di questi mondi diciamo così disfattisti e distruttivi quindi chi sta dalla parte della speranza della luce della meraviglia della possibilità che ha l'essere umano di creare nuovi mondi se ha voglia di farlo e se il suo intento è positivo costruttivo fa parte di un mondo elevato di persone che hanno capito che la materia il possesso l'opulenza i sentimenti come l'invidia la rabbia la cattiveria sono sono cose che ormai dobbiamo abbandonare perché fanno parte di un mondo che non ha creato niente se non questa distruzione di babilonia la grande adesso è giunto il tempo di saltare il muro e di cominciare a costruire il nuovo villaggio della speranza dentro di noi e fuori di noi con questo vi ricordo che il 9 di settembre ci sarà l'om collettivo a torri del benaco sul lago di garda e sarà un motivo di unione e di come dire fratellanza di persone che sono in sintonia con quello che abbiamo detto fino adesso quindi con la preghiera intesa come unione come condividere gli stessi intenti come condividere anche così questa assonanza con i fratelli delle stelle che si sono presentati a senigallia e che io credo si presenteranno anche sul lago di garda perché adesso c'è un filo conduttore in tutto questo quindi il 9 di settembre a torri del benaco sul lago di garda alle ore 19 all'uscita del paese in direzione malcesine c'è una baia che si chiama baia stanca siamo lì saremo lì ci sarò io ci sarà red ronni ci sarà pioggia giocaria ci sarà te a crudi luca donini berna rush e saremo tutti li a condividere i pensieri del nuovo tempo l'energia del nuovo tempo energia di unione di fratellanza di attività di azione e niente continuiamo su questo cammino perché è l'unico che ci dà speranza cercando di tenerci saldi assolutamente di fare un lavoro su se stessi cercare di mantenere un equilibrio assonante quindi una gestione delle emozioni che riesca ad essere per lo meno sufficiente per riuscire a mantenere la rotta fino a che le cose non cominceranno a cambiare in maniera veramente eclatante quindi diamoci una possibilità voi sapete che io utilizzo lo strumento della grafologia chi vuole affrontare questa iniziazione diciamo così per essere diverso per riuscire a cambiare alcuni aspetti che rendono la propria emotività fragile io ci sono sapete il mio indirizzo mail comunque tonini punto marina chiocciola la scrittura punto net con questo vi abbraccio vi saluto vi terrò aggiornati sui prossimi svolgimenti io sono in attesa e non un attesa pretenziosa un attesa meravigliata di tutto ciò che sta accadendo questo è come un film no che ha risvolti meno positivi ma il finale sarà super super positivo buona giornata www.mesmerism.it Grazie.